Un mezzo pesante questa sera, venerdì 2 febbraio, intorno alle 19, ha ortato la parte sporgente del tetto di un cascinale situato in via Ines Magnoni a Villa Nova Canavese. L'impatto ha provocato il crollo di buona parte del tetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mati e i carabinieri del nucleo radiomobile di Venaria Reale. Fortunatamente nel crollo nessuno è rimasto ferito. La zona è stata transennata e interdetta al traffico e i vigili del fuoco sono saliti con le scale e hanno messo in sicurezza il tetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.